Ammirare ciò che accade negli abissi del mare a chilometri di distanza, ad oltre 300 metri di profondità ed avere l'occasione di assistere in diretta al passaggio di un capodoglio o di un branco di delfini ascoltando la loro voce è l'opportunità che hanno i visitatori di Ketos Centro Euro Mediterraneo del Mare e dei Cittacei sede della Ionian Dolphin Conservation nel Palazzo Amati in città vecchia Taranto grazie al progetto Ketos per la Blue Economy, sostenuto dalla Regione Puglia, Sezione Economia della Cultura custodiamo la cultura in Puglia 2021, misure per lo sviluppo, per lo spettacolo e per le attività culturali una delle azioni del progetto infatti ha dotato Ketos di una postazione Fixed Underwater Eye che collegata ad una webcam subacquea consente al visitatore di vedere e di ascoltare in diretta quello che accade sott'acqua nel golfo di Taranto, di giorno e di notte senza interferenze dell'uomo e senza alterare gli equilibri naturali il sistema è stato progettato ed assemblato dallo studio tecnico Matacchiera di Fabio Matacchiera azienda specializzata nella realizzazione di prodotti tecnologici subacquei il sistema di Ketos comprende una telecamera subacquea digitale a circuito chiuso dotata di un faro da 780 lumen per illuminare l'oscurità della profondità ed un idrofono per ascoltare le voci dei cetacei nonché di un videocomunicatore subacqueo digitale che invia in tempo reale le immagini la telecamera è montata su una slitta di trascinamento che scorre lungo un cavo che le permette di raggiungere i 500 metri di profondità la telecamera è stata progettata